Vi presentiamo Frame.io, una cornice fotografica Wi-Fi intelligente che vi tiene in contatto con amici e familiari. Inviate foto e video direttamente dal vostro smartphone alla cornice fotografica Frame.io, in qualsiasi parte del mondo vi troviate. L'app Frame.io per smartphone può essere utilizzata facilmente da chiunque. Selezionate i destinatari, aggiungete una didescaria e il gioco è fatto. I vostri cari riceveranno le foto e potranno anche mettere una reazione divertente. La soluzione è perfetta per rimanere in contatto, anche quando si è molto distante. Frame.io, condividete i vostri momenti. Grazie. 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 Grazie.